hai una lavagna, fico però posso dire, posso fare una battuta prima di andarmene avresti dovuto disegnare la dignità nessuno che ricorda la citazione acutissima che ho fatto Michele stai dicendo che l'unico modo perché Panetti abbia una dignità è che la disegni questa volta la mia importantissima citazione culturalmente elevata completamente ignorata stavolta Michele la buttate fuori, eh, oggettivamente cupa, cupa nonostante fosse una citazione di Simpson, purtroppo ah, guarda, ha voluto mettere... Michele, io credo che Simone sia stato colpito da questa cosa non so se Michele riuscirà non so se Simone riuscirà a riprendersi mai da questa cosa, la dignità perduta e ritrovata, ci vediamo presto ciao, ciao, ciao dovete andare a vedere che cosa fa sì, sì, l'ho visto purtroppo lo sto vedendo Simone 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 non sono e non sarò mai abbastanza Simone, per me sei tutto più